Oh! Ho Fragmentag! Dr. Bimber! Potrebbe venire così? È gigante! Vi spoilerò! No, no! Ciao ragazzi! Per la rubrica negozi di giochi all'estero Oggi siamo negozi di giochi in... Germania! Siamo infatti da Smith Toys che è una catena inglese presente in tutta Europa e che in Germania ha anche dei super store Entrate con noi e sbirciamo cosa c'è Iniziamo dal bagno! Perché ci scappava E il bagno è fronte ai pannolini Guardate che muraglia Ora dobbiamo scegliere il bambino con cui tu faresti la pipina Con quale di questi? Questo è molto carino, sembra che balli Mi scappa, mi scappa Il mio preferito è lo youtuber, guardatelo Non è lui, ma è lui Guardate la faccia da copertina Un classico! A me piace veramente tanto Comunque qua ragazzi La scelta è esagerata Ah, appena devo decidere il mio Ci sono anche i mangia pannolini Ti ricordi? Sì, i mangia pannolini Sì, li avete mangiati tantissimi voi Cioè li avete fatti mangiare Veloce, ne chi dobbiamo andare ai giochi? Scegli Uh, la paro tutta Benissimo Dove andiamo? Desta a sinistra? In zona Lego In zona Lego, continuiamo i Lego Beh, quest'ora mi ha visto un sacco a Legoland Quindi possiamo andare veloci E affrontare le altre zone Saremo scientifici, corsia per corsia Questa è una torre Questa è una torre Questa è una torre E non vedere Gigante Per buttare giù gigantemente Qua abbiamo tutti i pezzottini Per i bambini carini Da mangiucchiare I giochi per i piccoli di legno Sempre pucciosissimi È bellissima No, fanno proprio la papera Faccio notare che hanno anche il farfallino Ale faccio una cosa sciocca Sicura? Sì, faccio come Niche Ma le aziono tutte Guarda, una, due, tre, quattro, cinque, sei Eh, il concerto delle gira-gira La piscina chic Con le palline chic Quanto è carina, vero? È molto elegante È grigia o pink? Non è fa Pink Dicono pink da queste parti Questi sono belli E sono proprio quelle che hai tu per ginnastica a casa Facciamo le vostre puntate di ginnastica ritmica Lucella, pendi bambino Questo ci mancava Ale Li avrei appesi Poi Oh 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 oh, iniziamo col peluche È bellissimo È super puccioso Sì, dovete leggere una storia Vai, leggimi una storia Non so che capisci cosa parla Vai, vai in tedesco Vai Allora È frozen Ah, è frozen Era chiarissimo Ma che carini che sono Ma fai vedere cuscigatto È vero È vero cuscigatto Mi ha tarato addosso un cuscigatto È molto morbido È molto morbido È molto morbido C'è tutta la collezione Incredibile Hai fatto la faccia del bambino Della Pampers Che era stupito Wow Qua si va oltre il nostro video Diciamo il pompiere Cettino Il bello di questi negozi È che hanno una quantità Pazzesca di personaggi E poi tutte le serie Che non si trovano in Italia Dove magari pubblicano O escono solamente alcuni Grand Albert Grand Albert Mitico me lo ricordo Guarda Ippopatroller Adesso vi faccio la cosa dei veicoli Tutti i veicoli Altri veicoli Continua con i veicoli Anche sotto Potrai correre tutto il tempo Borraccia pucciosa Scatto Mamma Mi ha messo una borraccia Vero di metallo C'è il grande vaso dei lavoretti Mega craft jar Di tutto Mascherine Orbici Occhietti Sì in realtà è più o meno Come il nostro armadio Della cartoleria Esatto Solo che sta in meno spazio Nel nostro armadio Potrebbe venire così Ma che forza Ma che carini Ma sono bellissimi C'è solo 4,99 Che forza Ragazzi quanto spazio abbiamo Nelle valigie Dicono che ce ne sia C'è il crear di Stitch Non l'avevo visto da noi Che bello E' anche in sconto Un euro di sconto Questo negozio Così alto Che bisogna sempre Guardare in alto Guardate Stitch Quanto è carino Gigante Questo l'avete visto Vero ragazzi E' anche scontato Sul video Del Luna Park in casa C'è tutta una serie Sì il canestro Ma da noi sono difficilissimi Da trovare C'è anche la battaglia navale L'hockey Questo l'avete visto Nel proiettore Un peluche Che puoi sfogarti A picchiarlo Aspetta Ci manca questa corsia Ma anche qua ci sono Le talpe C'è anche questo Ha le talpe Un altro classico Forte Questo l'abbiamo fatto In un altro video C'è anche la versione Di mangiaippo Dei dinosauri Guardate quanto è grossa Cacca Che 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 Caccher la cacca La cucaracula Caccher la cacca E cos'è la cacca Cucaraccia Molto bello Un grande classico Come chiameresti in tedesco L'allegro chirurgo Non guardate dietro di me Come lo chiameresti Allegro chirurgo Eh no Invece si chiama Dr. Bimber E così E dice Sì Sve E c'è un incendio Magari Più so che restare su Nell'incendio Oh bellissimo L'ho mai visto Addirittura il sacco Per saltare E anche questo E' sgondato Qui c'è il nuovo Monopoly Knocked out Ancora non è arrivato In Italia Tipo curling Tu devi lanciare le pedine Speriamo che arrivi Anche da noi Mentre Monopoly Barbie L'avete visto E adesso chi ferma La mamma Scommetto che Invalidia C'è giusto Quel posto Per mettere questo Quattro grandi classici Giù Ma Ah ma Ma Stitch Scusa Come si fa Non prenderlo E' carinissimo E questa è la corsia Dei peluche C'è sempre baby Ma c'è grande E non dimmi che ti sta bene Qua c'è lo sticcismo esagerato C'è mega stitch Super stitch E grande stitch Con il clavattino No c'è Angel Ma guarda che C'è 40 euro Ma di Veramente Così grande Li schiacciamo per bene Anche il cupcake Ma te li vedi Non sai cosa mettere La tua bambola Non lo so Guarda Anche i caldini Vengono Che sagerato Preparatevi al peggio Di peluche Preparatevi al peggio Cosa vuol dire Oh ma che carino Non è carino Come delle pringles Ma come un sceno Ma ti adora Le pringles Ah ti lo compreresti Vero Ma fa troppo ridere Eh vedi Fa troppo ridere Le lol aribo Ale Guarda che ci sono Le lol aribo Vediamo Andiamo a vedere La collezione cibo C'è la collezione Tacos Io adoro i tacos Sono anche gli aribo E quindi cosa sono E sai quei distributori Di caramelle Esatto Le lol surprise Allokiti Sono anche scontate 11,99 Per i 50 anni Di allokiti Ma ti prego la forma Questa ci sta in valigia Dobbiamo prendere Allo surprise Allokiti Tutta la vita Hai visto Sono solo due Eh devi scegliere Quella buona Sì Sorpresa bene Guarda sono andate a ruba Ce ne è poche di queste Allora io mi nascondo Dietro la colonna Per profida di non conoscerli Ah ma si possono pure unire Sono dei più affessionisti Allora uno No no Mati Non si fa mai lì A quell'altezza Fa male i maschetti A fondo Non fatelo a casa ragazzi No è il top Aspettate No un altro quami Scusate Hanno trovato i quami Devo andare Quami Quanti ce ne so No Il faccio di plug Ci sono tantissimi Ma quanti ce ne so Ma quando le di bug ha la macchina No Guarda che collezione Pazzesca Queste qua le abbiamo fatte Le reveal Poi ci sono anche questi qua Cioè i mini quami Da unboxare a sorpresa E una collezione di bambole Esagerata Bobomba Tieni Guarda che carica E qua abbiamo invece i pelusi di Marion Pelusi di Luigi Mamma Sei prima che ne ho i cunzi Dopo Così carina Qua ci sono tutte le cose sciocchine Vieni a vedere Mati Sono tutte cose super sciocchine Squishose Non ci posso credere Pollici quei dinosauri Guarda gli insetti Questo se lo vede la nonna Salta sulla sedia Guarda che bella è la luce barba Sì però io voglio la luce fenne È molto bella però Attenzione Qui in Germania Giocare con la sabbia È una cosa seria Se devi scegliere una paletta Ci puoi mettere 40 minuti I rubli hanno anche le zampette Ci sono anche quelle sostenibili Particolarmente belle E non possono mancare secchielli a manovella Questo set è super adorabile Dè questo sei tu Come sono io Sì che fai la griglia Ma va Vai Facciamo il gioco del pollice Uno Due Tre È difficile Breve momento degli acquisti Confermiamo No no prima Nicky vai Vai Nicky Allora questo mi siamo sticci da colorare Troppo carino 3D E abbiamo fatto la coppia Solo 4,99 Infatti c'è Sì la LOL E c'è anche Angel Non vedo l'ora di vederli Sono adorabili E poi in cassa C'era questa misura particolare Che ovviamente papà ha voluto prendere Perché sembro io Ma in realtà Beh ma ragazzi Cioè noi non c'è questo uomo Con questa misura gigante E quindi Ma l'uovo Kinder è grande così Per festeggiare Prima di tornare a casa Prima di tornare a casa Hai fatto un giro di uovo Ma tenetoli le vostre Giro di uovo Ale Ok È gigante Non ci posso No Incredibile Non si fa La frenesia Un pezzo di uovo Kinder Può essere mai sprecato Ok mangiato su papà Ok No mangio questo Com'è il Kinder tedesco Kinder È uguale sempre al Kinder nostro Ricordiamo che Kinder in tedesco Vuol dire bambino Non ce la faccio La telecamera in mano Tira 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 Non guardate ciao L'ho sprecciato un pochino No Io non l'ho visto Allora noi aspettiamo Nel frattempo Gustiamo Ci vedo È un braccialetto Miraculous Mi stai a vedere due No Addirittura due braccialette No È Ladybug Ma non ci posso credere Ha perso le ali Abbiamo trovato anche Ha perso le ali È acqua bug questa Ma no No è quella dello spazio Ah è quella dello spazio Ragazzi sono indietro con le serie Voi le avete viste tutte Sì è visto l'ultima episode di tutto Ve spoiler No 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 Gitta Tacciatela con il gelato Il cioccolato Datele il cioccolato Vabbè Secondo me questa qua È anche glue in the dark Ah Cosmobag Cosmobag Ecco Cosmobag Forte Ragazzi super sorpresa Guarda Oh sì eccola Hanno riciclato quelle dei nostri Kindergarn sorpresa di Pasqua Però ci hanno messo una super sorpresa È un prezzo super interessante A noi il negozio di giochi in Germania È piaciuto E se anche voi ragazzi Questo video è piaciuto Mettete un Pollicione Non scappate con le bici in vendita No 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 Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR Per non perdere i prossimi video Ciao 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 Ciao